weh non fare il pollo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiu derone daie weh bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiu der e ragazzi sono uscite il le sfide il terzo blocco di sfide a tempo straordinario andiamo a vedere oggi ragazzi le sette cascate dove potete appunto completare una sfida e raggiungere i 500 punti esperienza la cascata numero uno ragazzi la stiamo vedendo in questo momento è proprio quella che c'è prima dello sprofondo prima dello delle sponde del saccheggio quindi cascata numero uno la cascata numero due invece non dobbiamo allontanarci di molto da quella che abbiamo visto poco fa si rimane a sponde del saccheggio e come vedete qua ce n'è un'altra andiamo ad avvicinarci ragazzi la cascata è proprio queste piccole cascatine che state vedendo ci mettiamo qua e dovrebbe darci la cascata numero due esatto cascata numero due fatta la cascata numero tre invece ragazzi bisogna spostarsi parecchio come vedete siamo dietro passatempi pomposi basta semplicemente seguire il corso del fiume che ovviamente ci porterà ragazzi allo sbocco sul mare che termina proprio con una cascata quindi avete capito benissimo dove siamo vi faccio un bello zoom in modo che è ancora più chiaro si prosegue la stiamo già intravedendo basta solo avvicinarsi ragazzi qua potete anche se volete suicidarvi per fare subito la missione e andare oltre anche se potete fare tutte anche la stessa partita cascata numero tre fatta scata numero 4 ragazzi bisogna andare al rifugio ritirato forse ve la ricordate adesso che ve la faccio vedere c'è una piccola cascata dove c'è il fiumiciatolo e il laghetto e per la precisione la cascatina potrebbe essere o questa sì penso che sia proprio questa ragazzi vediamo se abbiamo ragione ed è proprio questa cascata numero 4 fatta andiamo avanti ragazzi cascata numero 5 bisogna andare invece dove c'è il deserto quindi vicino al palmetto paradisiaco esattamente dove c'è l'oasi la conoscete avete capito benissimo dove siamo lì c'è lande eccola qua ragazzi proprio sotto di noi la cascata numero 5 ci avviciniamo ce l'ha già conteggiata cascata numero 5 quasi giunti alla fine ragazzi la cascata numero 6 è la cascata più famosa di fortnite quella ghiacciata da ben due season ed eccola qua quella dei vichinghi l'avete capito sicuramente anche voi basta semplicemente avvicinarci alla nave ed ecco qua ragazzi cascata numero 6 fatta e siamo arrivati ragazzi all'ultima cascata finalmente la numero 7 siamo dove c'è a frodo avventurato praticamente esattamente dalla parte opposta del fiume come abbiamo visto per la cascata numero 2 anche la cascata numero 7 è qua al termine del fiume quindi ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando codice creator xyuderone iscrivetevi in tantissimi al canale noi ci vediamo in live ciao 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 ciao